Ministro di Turismo e Transporte, signor Otmar Odiber, ha calificato come transparente e conversazione con Ministro di Corso, José Yardin, encargato finanzas. Dos malattari hanno stato satisfezzi di un riunione, con cui il Ministro è stato presente anche il Ejecutivo di Cure Oil, lo che ha definito anche il carattere di subiscita in Aruba. Il Ministro di Odiber ha stato mirato come elemento di mercadeo per attraire il barco crucero e ha fatto questa facilità per abastecire il barco non comestibile. Ha stato cercato più punti di cooperazione. Il Ministro di Cure Oil è stato usato come parte del mercadeo per abastecire il barco e per abastecire il barco, per abastecire il barco e per abastecire il barco e per abastecire il barco. abbiamo anche un articolo per co il ter Castro di Cure Oil. La documentazione è stata elevata in sina attезжare il quale sono��이ziato seeingore lastromagna dell'Italia stewardship, l' Fuqua, L'AndraStar trattano il turismo.